Tutto da rifare per il processo a Don Mauro Galli condannato in primo grado e in appello per aver abusato sessualmente di un giovane di Rozzano. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso presentato dai difensori del sacerdote e quindi si riparlerà della vicenda nei prossimi mesi perché il processo dovrà ora ripartire dall'appello. L'ex sacerdote era stato condannato per aver abusato sessualmente nel dicembre del 2011 di un ragazzino con molti problemi che all'epoca aveva 15 anni condannato in primo grado. In appello la pena gli era stata ridotta da 6 anni e 4 mesi a 5 anni e 6 mesi. Gli avvocati del sacerdote hanno sollevato ben 10 eccezioni che hanno convinto i giudici della Cassazione a riaprire la vicenda. Le eccezioni vertono su molti aspetti ma in particolare nel dettaglio di quale reato sia stato contestato al religioso e alle testimonianze incongruenti in più punti della presunta vittima. Il tutto si gioca ancora sulle versioni e sulla loro interpretazione fornita dalla vittima e dal presunto carnefice. Da una parte si sostiene che l'ex parroco avesse ordito una sorta di trama per far dormire l'adolescente da lui e poi molestarlo. Dall'altra il religioso ha sempre ribadito di aver ospitato il ragazzo perché dopo un litigio con i propri familiari questi minacciava di scappare di casa. Ora si torna al processo d'appello che dovrà chiarire ancora una volta cosa sia successo in quei giorni del dicembre 2011.